A Scicli negli ultimi mesi, negli ultimi anni c'è stato un po' di eccessivo silenzio e quindi bisogna sicuramente che la cittadinanza intervenga e di un'opinione su quello che sta succedendo. Soprattutto adesso in cui siamo in una fase che per l'economia del centro storico di Junge e delle Borgate potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta. Do molta attenzione a quella che è la rivitalizzazione del centro storico e di Junge, quindi la periferia, per quanto riguarda le nuove attività che stanno nascendo e soprattutto quando si parla di chiusura del centro storico, di nuove attività per le Borgate, bisogna confrontarsi sicuramente con tutti quelli che operano nel settore, investono per dare slancio all'economia. Proprio per questo la cittadinanza si deve unire e dare una propria voce.